Grazie Presidente. Partirò da dati positivi. Fino a prima della pandemia, in circa dieci anni, era aumentata la speranza di vita e la guarigione del 37%. E una persona su quattro con malattia oncologica guariva completamente. Cioè sviluppava la stessa aspettativa di vita della popolazione generale. Questi sono risultati meravigliosi che appartengono agli operatori sanitari, al mondo della ricerca scientifica, a tutti quegli uomini e quelle donne che si sono dedicati a poter garantire non soltanto la guarigione, ma anche la qualità della vita, quindi il rispetto della dignità dell'essere umano, anche in una fase così terribile come quella della malattia per una problematica oncologica. Parto dai dati positivi perché ritengo che sia fondamentale sottolineare questi aspetti, che sono segno di verità e che danno fiducia e speranza. Fiducia e speranza a tutti coloro i quali hanno il diritto di vedere protetta la loro salute e hanno anche il diritto di vedere uno Stato che mette tra le proprie priorità proprio la salvaguardia della salute e in particolare in questo caso come stiamo trattando oggi nelle emozioni in esame delle persone che hanno una problematica oncologica. È fondamentale perché fino a, diciamo, 30 anni fa, la parola tumore faceva paura soltanto a proferirla. Non si diceva neanche, spesso ci si riferiva dicendo quella brutta malattia, quel male incurabile, forse si arrivava a questo, ma era così difficile pronunciarla perché in realtà la quantità di morti era effettivamente ben diversa da quella che invece abbiamo potuto vedere e constatare con gli investimenti nella ricerca scientifica, nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nel trattamento, nella guarigione e poi infine proprio anche nella qualità della vita. Quindi oggi dire che si ha il tumore, che si ha il cancro non è più così difficile come 30 anni fa. Le persone ne possono parlare, lo possono condividere e in questo si sentono certamente meno sole. Per questo mi permetto di dire, e proprio con l'unico obiettivo di dare fiducia alle persone e anche di spronare le istituzioni a tutti i livelli, ad investire in ricerca, in prevenzione, in trattamenti, in farmaci innovativi, che io stessa sono figlia di questi progressi della ricerca scientifica. Sono viva proprio grazie a quello che molti uomini e donne hanno fatto dedicando la loro professione e la loro esistenza a salvare altre vite umane. Ho avuto il cancro tantissimi anni fa, era un cancro avversivo, ero molto giovane, la possibilità di morire era tanto, tanto vicina. L'unica cosa che mi ha permesso oggi di essere qui a parlarne è che ho incontrato operatori sanitari che mi hanno accompagnato in cure, in trattamenti e anche in un tenere dentro di me la fiducia che sarebbe andato tutto bene e che quindi mi hanno permesso di poter non soltanto sopravvivere, ma vivere. Io sono una di quelle quattro persone che oggi ha la stessa probabilità di ammalarsi come chi non ha mai avuto il cancro. Quindi ci si può riuscire? Sì. La ricerca c'è? Sì. I farmaci ci sono? Sì. E allora tutto questo dovrebbe fugare ogni dubbio alle istituzioni rispetto all'investire nel trattamento delle malattie oncologiche, nelle campagne di prevenzione, nella diagnosi precoce, nella diffusione dei farmaci innovativi e quindi poi nel diritto di poter continuare a vivere. Questo perché si può fare. Le vite umane possono essere salvate. In questo caso più che in altri. E è anche per questo che quello che è accaduto durante la pandemia è così terribile. I miei colleghi prima lo dicevano. 100 milioni di screening mancanti nel 2020. Due milioni e mezzo di esami saltati. Difficoltà nella medicina territoriale a arrivare alle persone. Vi devo dire che io mi sono immedesimata in questi due anni nelle persone che hanno incontrato il cancro nella loro vita. Mi sono immedesimata perché ho pensato ma se io avessi avuto il cancro in questi due anni oggi effettivamente potrei parlare qui a distanza di tempo dalla mia diagnosi? Avrei avuto le stesse occasioni? Avrei avuto la stessa possibilità di ricevere cure tempestive perché per esempio nel mio caso la differenza è stata proprio lì nell'avere una diagnosi precoce perché a 30 anni di cancro si muore si è così giovani il cancro è così aggressivo quindi se non avessi avuto la diagnosi precoce il trattamento precoce la chemioterapia, la radioterapia nei giusti tempi sarei potuta sopravvivere? Questo è uno degli interrogativi che mi ha accompagnato in questi due anni e vi dico la risposta è molto probabilmente io non sarei sopravvissuta al cancro non l'avrei sconfitto non avrei vinto io perché non avrei avuto gli strumenti per farlo probabilmente la forza di volontà sì l'avrei anche avuta ma anche quella a un certo punto sarebbe vacillata nel vedere che quegli operatori sanitari non mi potevano accompagnare in un percorso di certezza e di assistenza e allora oggi non dobbiamo indugiare io mi unisco alle emozioni sottoscritte dai colleghi in quest'aula certamente Fratelli d'Italia sarà lì a sostenere qualsiasi tipo di intervento vada verso il garantire le giuste cure a persone che si trovano in uno stato di estrema fragilità come i pazienti oncologici lo faremo certo come forza di opposizione ma non ci opponiamo mai a iniziative e misure giuste che affrontano problematiche reali e in questo caso certo che c'è una problematica reale di cui prendersi cura perché la situazione post-pandemica invece che stiamo vivendo è assolutamente drammatica e ha compromesso in maniera determinante i grandi progressi che si erano acquisiti nella ricerca scientifica e anche nel trattamento e nella cura delle malattie oncologiche unitamente alle campagne di provinzione quindi oggi ci troviamo ad affrontare un problema cruciale c'è bisogno del contributo di tutti nessuno escluso per farsi di rimettere al centro le campagne di prevenzione i farmaci innovativi le reti oncologiche di poter supportare la sanità territoriale di incentivare la sanità digitale nel senso la telemedicina la teleassistenza perché molto si può fare per arrivare nelle case delle persone e portargli cura e conforto e poi certamente c'è da mettere tra le priorità la questione dell'obbligo oncologico la campagna che è stata lanciata dalla IOM e quindi io non sono il mio tumore deve essere assolutamente attenzionata da tutti all'interno di questo Parlamento una persona guarita non può continuare a camminare nella propria esistenza come se fosse la sua malattia già non è così quando si ha la malattia io non sono il mio tumore il tumore è una parte di me che posso mettere da parte se appartengo a una comunità che mi aiuta a farlo quando sono guarita io continuo a non essere il mio tumore ma certamente non ho alcun tipo di rischio che devo portarmi dietro rispetto a aprire e accendere un mutuo sottoscrivere un'assicurazione o chiedere di poter adottare un bimbo anche in questo caso un bimbo certo che ha bisogno di un genitore che lo accompagni il più possibile nella sua esistenza si spera all'età adulta ma una persona con una mattia oncologica che guarisce ha superato quel problema e quindi non è una questione che deve rimanere nella sua identità preclusiva e quindi anche questa è una legge di civiltà che questo Parlamento dovrebbe assolutamente mettere tra le proprie priorità quindi è chiudo sono contenta che sia stata galerandarizzata questa mozione come Fratelli d'Italia daremo il nostro contributo certamente sosterremo iniziative di questo tipo e aiuteremo a far sì che in Italia si ritorni a poter coltivare quella speranza che diventa anche certezza di una sopravvivenza e di una vita successivamente ad una malattia oncologica grazie 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 a Leonardo